benvenuti alla l'ottava edizione del premio vivere a spreco zero edizione 2020 per le buone pratiche di economia circolare e di sviluppo sostenibile sono andrea segre qui in veste di presidente della giuria del premio una cerimonia che dobbiamo necessariamente fare in questa modalità e chiedo all'onorevole sandra zampa sottosegretaria al ministero delle salute di portare il suo contributo a questa giornata è con piacere che partecipo a questo premio che si è sviluppato fin da subito con un appuntamento annuale rivolto agli enti pubblici all'impresa ai cittadini per individuare promuovere e veicolare le migliori buone pratiche di prevenzione dello spreco alimentare ed impegno in favore dell'educazione alimentare e della sostenibilità sono tutti temi che stanno a cuore a chi governa questo premio è dedicato ad azioni a progetti innovativi potenzialmente replicabili questo è anche un fatto molto importante imitare delle buone pratiche diffonderle diciamo in modo intelligente e relativamente semplice per diffondere una cultura ma per rendere estremamente virtuose queste qualità serve una buona comunicazione quella che voi state facendo con tanti testimonial con tante manifestazioni e occasioni di confronto un lavoro di profondità nelle scuole perché tra i giovani che si radicano le buone o le cattive pratiche ma poi serve strutturare serve strutturare serve dare normative passiamo alla successiva categoria che è proprio la categoria ortofrutta che andiamo a premiare ora il partner abbinato in questa categoria unitec diciamo un'altra eccellenza ma della tecnologia emiliano romagnola e dovrebbe essere insieme a noi paolo pasini responsabile delle relazioni istituzionali di unitec attraverso la nostra tecnologia i produttori possono davvero scegliere quale tipologia di frutta soprattutto quale qualità e quindi noi siamo in grado di offrire sia la qualità per il cibo per la nostra tavola quotidiana sia per la trasformazione sia per la cucina quindi riduciamo lo spreco attraverso la capacità di selezionare la qualità e credo che questo sia molto importante soprattutto quando noi possiamo diversificare la nostra offerta alle varie capacità di poter utilizzare che adesso è arrivato il momento di annunciare il vincitore di questa categoria che è il gruppo rivoira che grazie all'usilio della tecnologia cherry vision 3.0 è riuscito a lavorare partite di prodotto che per i danni da maltempo e pioggia sarebbero andate quasi completamente perse cherry vision 3.0 infatti dotato di telecamere ad altissima risoluzione che concorrono a scansionare al 100 per cento di ogni ciliegia e a rilevare con estrema precisione anche l'eventuale presenza di spaccature o lesioni grazie a cherry vision 3.0 quindi il gruppo rivoira è riuscito a recuperare tutte le ciliegie buone separandole con cura da quelle danneggiate valorizzando così al massimo il prodotto e facendo sì che non ci siano stati sprechi di risorse il premio al gruppo rivoira va non tanto perché ha scelto la nostra tecnologia ma perché attraverso di essa rispetta la terra in cui viviamo valorizza i beni che essa ci dona ne riduce lo spreco offrendo bontà e bellezza in un'esperienza possiamo dire durevole e soddisfacente per tutti